parlare di moda non vuol dire solo parlare di abiti vuol dire parlare di un di un settore del sistema del made in italy un settore molto importante per il sistema economico italiano e quindi anche molto importante da un punto di vista della storia e della e della ricerca la moda è l'interpretazione dei linguaggi del contemporaneo riferiti a un determinato momento e a una determinata situazione economica voler definire la moda è argomento molto complesso infatti noi troviamo moltissime definizioni ma quello che noi sappiamo del fenomeno moda è che il fenomeno moda è un fenomeno in continuo mutamento e questa è proprio la costante della moda la moda è fatta di continua ricerca e di continua innovazione basti pensare oggi la moda in cui siamo nella digital transformation la moda ha interpretato e sta interpretando questo fenomeno lo sta interpretando nei modi secondo noi più avanzati in quanto sta progettando per esempio il nostro guardaroba reale e il nostro guardaroba digitale inoltre la moda sta rivoluzionando il proprio sistema di comunicazione il proprio sistema di fare gli eventi e passeremo nei prossimi anni e sarà anche quello che noi vedremo insieme ad avere sistemi di comunicazione in cui le modelle non ci saranno più e gli ambienti saranno totalmente digitali non ci saranno piùuresi Grazie a tutti.